Meglio così, meglio non partecipare, meglio non farsi notare, non proverire, un video nel serio e nulla raggiunge, verrà il tuo giorno di splendere, verrà il momento che vorrei dire la tua, può fare il tempo a cambiare, e ti guardo da qui, sempre o meglio così. Grazie per la visione!